Riplievo of topic, come fare se uno ha passioni non frugali e non vuole rinunciarci? Ad esempio vino, cibo di alto livello, vestiti di qualità, eccetera. Non è ostentazione, ma puro interesse appassionato. Doctor Fantastica, è una bella domanda, è una bellissima domanda. Qual è il problema? Perché ti stai ponendo questa domanda? Cioè, se tu hai delle passioni che non sono frugali e costano e non vuoi rinunciarci, ti stai ponendo domanda, ti senti sbagliato? Io direi che il livello di spending è molto soggettivo, è espressione di chi sei. Per me frugalità significa tagliare brutalmente sulle cose che non ti danno valore, ma spendere senza troppi rimpianti sulle cose che ti danno molto valore. Ora poi, questa è la base. C'è una parte, a mio avviso, di allenamento. C'è una parte di, ok, riesco a fare cinque push-up, cinque flessioni, e quindi dico, beh, io riesco a fare, non posso fare più di cinque flessioni. Hai provato? Hai provato un pochino? Hai visto se riesci a spingere un po' i limiti? Hai visto se riesci, se veramente le cose che ti racconti, avere tanto valore per te, hanno effettivamente tanto valore? Perché per me è vero che tu devi trovare il tuo equilibrio e le cose a cui dai valore, devi dedicarci valore, però non è una cosa che esce dall'oggi e fai, ma secondo me a me piacciono le macchine sportive. Sei sicuro? Hai provato? Hai provato a vedere se effettivamente quella roba lì ti dà valore? A rinunciarci a qualcosa? Io un po' di ricerca interiore più spinta la farei. Poi, se puoi permetterti queste passioni e non intaccano particolarmente la tua economia, vai tranquillo. Però fa sempre bene fare un po' di cercare i limiti, spingerli un po', fino a che non fa male, fino a che non dici, no, aspetta, questo qui non voglio rinunciare, ho provato. Però fa bene spingere, perché più cose riesci a non aver bisogno e più a mio avviso uno è ricco. Cioè se uno riuscisse a non aver bisogno di niente sarebbe infinitamente ricco e molto più facile da, più facile condurre una vita serena, senza preoccupazioni, senza stress. Cioè, questo è il mio punto di modo di vedere le cose. Io ci sono tantissimi aspetti della vita che non entro proprio in competizione e non me ne frega niente. Mi sento che, wow, posso non preoccuparmi di tutta questa cosa qua. È bellissimo, lo trovo rilassante. Sono poche le cose che al momento sento di star soffrendo perché non me le posso permettere. Quindi, se te lo puoi permettere, ok. Se hai fatto la domanda, probabilmente senti di star spendendo un po' troppo. Comunque, in generale, la frugalità è soggettiva. Reputo che sia un valore in termini assoluti, ma è molto soggettiva. Un tempo ero un po' più duro su questo qua e ero convinto che chiunque spendesse soldi in cose totalmente superflue semplicemente non aveva ancora fatto quello step di maturazione. Invece no, c'è gente che tranquillamente, in maniera sostenibile e intenzionale, spende soldi in cose che io reputo superflue, ma per quella persona sono importanti. È importante prima il percorso, cioè vedere se veramente quelle cose sono importanti. Rip, non credi che se uno ha la mentalità da risparmiatore per potenzialmente andare il prima possibile in fire, poi una volta in fire mantenga quella mentalità e quindi non potrà mai godersi la vita? Domanda sbagliata perché uno non deve evitare di godersi la vita oggi per andare in fire. Quindi se tu hai la mentalità da risparmiatore e lo fai con la gioia, cioè io quando posso risparmiare risparmio con gioia. Se poi in fire non spenderò soldi sarà quello il modo di godermi la vita. Cioè a me ragazzi il fatto di avere un bel po' di soldi è il mio modo di godermi la vita. Cioè non mi godo la vita se mi compro beni di lusso, mi godo la vita se so che, bah, stamattina vado in palè, se so che per i prossimi 15 anni posso non fare niente e porto ancora il cibo in tavola della mia famiglia. Cioè me la vivo molto più rilassata. Affanculo sti cazzi, sti cazzi se non entrano soldi mi frega niente. Quello è il modo di godermi la vita per me. Quindi non è che se uno ha la mentalità del risparmiatore allora sta sacrificandosi e dice cazzo vorrei tanto andare a mangiare quel panino ma no, mangio l'erba, così arrivo prima in fire e poi arrivi in fire e dici però adesso continui a mangiare l'erba e muori con un miliardo di euro. No, hai sbagliato tutto. Grazie.